ciao a tutti da qua su facebook adesso iniziamo anche da instagram quindi tra poco partirà la live la prima live di iCamera dove parleremo appunto sul photo editing quindi datemi 5 minuti di tempo che iniziamo subito sto impostando e settando tutto anche su instagram e su facebook ci siamo su instagram ancora no vediamo che cosa succede buongiorno a tutti buonasera a tutti comunque ragazzi siamo live qui su facebook e anche su instagram sto riscontrando alcuni problemi su instagram adesso vediamo se riesce a essere tutto a posto ok spero che su instagram mi si vede se mi potete mandare un messaggio dove mi scrivete se mi sentite se mi vedete abbastanza bene la qualità della rete qui non è il massimo dove mi trovo però è questo quello che avevo a disposizione quindi spero che mi sentiate e mi vediate tutti quanti se magari mi dite mi fate un cenno e mi dite se mi sentite e mi vedete correttamente mi sarebbe di grande aiuto per poi riuscire ad iniziare la live senza alcun tipo di problema quindi ecco fatemi sapere attraverso un messaggino comunque tra più o meno 2-3 minuti inizieremo questa live ufficialmente sia da facebook che da instagram anche questo pomeriggio per alcuni di voi magari l'avranno visto che abbiamo fatto alcuni test su entrambe le piattaforme quindi ecco se ci avete visto live anche questo pomeriggio era questa la motivazione ok perfetto grazie mille a tutti quelli che mi stanno dicendo che funziona tutto correttamente quindi niente ragazzi diciamo che possiamo iniziare anche perché sono le 20.02 è iniziata ufficialmente quindi la prima live di iCamera abbiamo deciso di fare questa live per tutti coloro che ne volevano sapere sicuramente di più sul photo editing ma anche per un pochino festeggiare con tutti voi l'occasione di essere raggiunti a questo piccolo traguardo dei 10.000 followers su instagram e per noi comunque questo significa molto perché sono tutte persone comunque estremamente interessate alla fotografia da iphone e per noi conta tanto non abbiamo mai fatto nulla ad esempio di comprare followers o chissà che cosa con instagram sono tutte persone venute in maniera organica totalmente quindi questo per noi comunque è un grande traguardo e quest'oggi però il tema è del photo editing è un tema molto particolare questo per quel che riguarda la fotografia perché diciamo che solitamente ci sono due tipologie di persone diciamo due tipologie di pensieri sul photo editing il primo è del diciamo del purista mettiamola così ovvero colui che pensa che editare una foto non sia nient'altro che andare poi a snaturarla quindi andare a non far vedere la realtà dei fatti come se fosse ad esempio una foto giornalistica che quindi una foto giornalistica ti deve semplicemente ritrarre la realtà dei fatti però non è così cioè nel senso altre persone la pensano in maniera differente ora entrambe queste due correnti di pensiero quindi questa prima che ho detto e questa seconda che adesso dirò sono entrambe rispettabilissime in ogni caso la seconda corrente di pensiero dice che essendo la fotografia un atto creativo è giusto che il fotografo utilizza tutti i mezzi che ha a disposizione per riuscire a tirar fuori dalla fotografia quello che più ne desidera ovviamente e io mi ritrovo sicuramente un pochino molto di più sul secondo filone di pensiero comunque in ogni caso la live di quest'oggi appunto tratterà dei tre principali problemi di ogni buon fotografo che si approccia appunto sul photo editing e poi ci sarà una parte finale dove lasceremo spazio a voi lasceremo spazio alle vostre domande se ci volete chiedere qualsiasi tipo di cosa riguardante appunto il photo editing ci saranno questi 20-30 minuti più o meno finali dove appunto lascerò spazio a voi mi potrete fare qualsiasi tipo di domanda e io cercherò insomma di rispondervi e quindi incominciamo prima di tutto partendo da tre concetti principali ovvero sicuramente l'editing è importantissimo nella fotografia non si può proprio prescindere in realtà dall'editing e adesso vi spiego il perché la fotografia come abbiamo detto prima è un atto creativo l'editing è un qualcosa che si è sempre fatto in realtà nella fotografia in passato si faceva chimicamente adesso si fa digitalmente però l'importanza del photo editing è sicuramente netta come cosa nessun fotografo nessuno dei migliori fotografi al mondo davvero ragazzi non passa attraverso la fase di fotoritocco questo perché appunto come abbiamo detto prima l'editing fotografico deve andare a risaltare quella che è la bellezza della fotografia per cercare quindi di portare alla luce la propria espressività ciò che si vuole far passare appunto nella fotografia e quindi sia attraverso la fase di scatto ma anche attraverso la fase di editing si può riuscire a fare questo quindi il fotoritocco o l'editing fotografico comunque è fondamentale se partiamo da un presupposto che come fa una foto a essere bella il 50% è merito della fase di scatto e l'altro 50% è merito della fase di editing quindi se noi facciamo solamente la fase di scatto sicuramente la fase di editing non andrà bene scusate se facciamo solamente la fase di scatto e non facciamo la fase di editing sicuramente la bellezza del nostro scatto è incompleta perché appunto manca il 50% del fotoritocco quindi se uniamo queste due cose quindi scatto fatto come si deve e fotoritocco fatto come si deve a quel punto si vanno a matchare queste due situazioni e davvero lì la foto ha il potenziale per riuscire a essere veramente veramente bella poi è chiaro che si possono fare queste entrambi queste fasi ma se poi non si conosce come farle è chiaro che non si avrà una foto bella o una foto apprezzabile bisogna conoscere alla perfezione tutto ciò che concerne la fase di scatto e tutto ciò che concerne la fase di editing ora il nostro corso di iPhone Photo Academy appunto è un corso super completo sulla fotografia da iPhone che ti spiega nel dettaglio come riuscire a scattare le tue foto con l'iPhone nel miglior modo possibile e quindi la prima fase di scatto è sicuramente più che citata appunto nella nostra iPhone Photo Academy e quindi quello comunque è sempre il primo step ora in questo periodo stiamo parlando un pochino più di foto editing proprio per andare a parlare di quell'altro 50% ovvero la fase di foto di ritocco sicuramente l'editing serve per migliorare una foto che come vedremo successivamente non significa per forza aggiungere qualcosa ma può anche significare togliere qualcosa anzi spesso dovrebbe significare togliere qualcosa più che aggiungere comunque il fotoritocco è sicuramente qualcosa che serve per migliorare una foto e non di certo per snaturarla tantissime volte ad esempio sul gruppo di fotografia da iPhone vediamo che ci sono tantissime bravissime persone che condividono le loro foto e a volte però posso notare che l'editing che c'è dietro queste foto non è naturale è completamente snaturata la situazione quindi sicuramente c'è da fare molta attenzione sul fotoritocco perché con un solo schiocco di dita o con un click sbagliato si possono fare veramente tantissimi danni e si salverò la diretta comunque Elisa quindi questa diretta poi sarà visionabile anche successivamente inoltre il terzo punto introduttivo di cui vi voglio parlare è che l'editing non è così complicato come uno possa pensare cioè tutto quello che vi ho detto adesso è l'editing è importantissimo ma non significa che sia anche complicatissimo se voi attraversate un percorso step by step che vi insegna a editare le vostre foto al meglio allora a quel punto non sarà complicata la fase di editing ma sarà qualcosa di piuttosto semplice per alcuni di voi sarà anche addirittura meglio della fase di scatto perché ci sono tantissimi di voi che magari preferiscono smanettare sul cellulare piuttosto che andare a scattare le fotografie fuori io ad esempio a me piacciono tutte e due queste fasi probabilmente vi piace un pochino più la fase di scatto ma comunque se uno sa perfettamente come editare una foto non è complicato l'editing è complicato solamente nel caso in cui non si sappia che cosa andare a fare e quindi a quel punto sì è complicato il photo editing perché se uno non sa che cosa deve fare diventa tutto complicato nella vita ad esempio se io voglio andare a riparare il motore di una macchina ma non sono un meccanico non ho mai studiato nulla di questo allora come posso pretendere di sapere come sia giusta quel motore o di riuscire a farlo bene non lo farò sicuramente bene e così questo vale anche per la fotografia e quindi questo vale anche per la fase di scatto 50% e la fase di editing 50% quindi abbiamo detto questi tre punti introduttivi che ci tenevo molto a comunicarli con voi perché va bene parlare di tutto però ci devono essere sempre delle basi portanti delle fondamenta che riescano a farvi capire meglio di che cosa stiamo parlando perché so perfettamente che alcuni di voi in realtà sono un pochino diciamo neofiti dell'argomento anzi tantissimi di voi ci avete scritto veramente tantissimi mail a volte dove ci avete chiesto appunto dei corsi sul photo editing di spiegarvi alcune cose particolari magari vedete delle foto sul gruppo e dite oh mio dio come faccio a replicarle queste foto sicuramente è merito della fase di scatto ma anche tanto della fase di editing e appunto in questo periodo vivremo molto più in corso sulla fase di editing quindi adesso iniziamo con la live vera e propria con la fine della parte introduttiva iniziamo quindi la live come abbiamo detto per chi si è collegato da poco ci saranno io parlerò di questi tre punti ovvero i tre principali problemi delle persone sul fotoritocco sull'approccio al fotoritocco vi parlerò un po' di questo e vi darò un po' di piccole chicche sul come cercare di risolverli questi problemi e infine ci saranno questi 15-20 minuti mezz'ora poi vedremo di domande da parte vostra sul photo editing quindi se avete qualsiasi tipo di domanda vi chiedo gentilmente di farle successivamente non adesso perché non non potrò rispondervi alla fine di questi alla fine della live terrò appunto questo spazio di 15-20 minuti mezz'ora dove potrete fare tutte le domande che voi volete magari meglio sul fotoritocco ovviamente allora il primo punto che voglio dire che voglio citare quindi uno dei dei più grandi problemi del fotoritocco è sicuramente che le persone non capiscono esattamente quando è meglio intervenire su una determinata fotografia su una un determinato una determinata porzione della foto e quando è meglio non farlo cioè in una foto se avete una foto da editare non sempre tutte le parti di quella foto vanno editate e magari altre parti invece vanno editate molto più intensamente cioè è molto importante capire quando intervenire e quando non intervenire sia macroscopicamente quindi in generale nelle foto cioè ad esempio ho questa foto è già bella così non mi serve fare chissà che cosa me la tengo così ed è bellissima punto fine ma anche nella situazione più macro ovvero ho questa foto ci sono queste aree queste zone in questa foto questa zona ha bisogno di fotoritocco quest'altra zona magari no o ha bisogno di un fotoritocco differente quindi questo è uno dei problemi principali del fotoritocco perché quando uno edita una foto generalmente la edita tutta non ha zone e soprattutto a volte la foto già al naturale è bella così e quindi quel che deve fare il fotoritocco è andare semplicemente a tirar fuori quel qualcosa in più ma non la deve assolutamente stravolgere in nessun modo come si riesce a bypassare tutti questi problemi prima di tutto come abbiamo detto prima con la conoscenza mi blocco un attimino dal parlare perché già due persone mi hanno detto che si blocca il video da instagram almeno quindi qualcuno di voi qualche altra persona ha dei problemi sulla visione da instagram quindi se è così fatemelo sapere mi sono interrotto un attimo perché non voglio continuare ovviamente e si blocca il video e tutto quindi ecco se mi dite se su instagram mi si continua a vedere diciamo a scatti o bloccato sarebbe l'ideale la situazione e invece su facebook sembra che la situazione sia tutto ok quindi ok su instagram si confermo si blocca ogni tanto ok ma il diciamo riuscite comunque a capire il contesto generale oppure non si capisce proprio quello di cui sto parlando ok quindi vedo che c'è qualcuno invece che ha problemi altri no ok stefano carosi grazie mi dice che su facebook è ok ok si capisce si capisce perfetto grazie si purtroppo qui la connessione non è il massimo mi trovo un pochino in una una casa di montagna e quindi non la linea non è il massimo ho cercato di fare tutto quello che potevo comunque non è il caso dato che su facebook ci sono molti meno problemi in questo senso se qualcuno ha dei problemi consiglio di andare a vedere la live sul gruppo facebook perché siamo in diretta anche lì comunque ritorno al discorso che stavo dicendo grazie a tutti per avermi aiutato in questa fase capendo meglio se si bloccava oppure no quindi ritorniamo al nostro discorso è molto importante quindi capire quando intervenire e quando non intervenire la conoscenza quindi sapere conoscere la materia sapere quello che si sta facendo è molto importante per risolvere questo problema ma anche molto importante l'esperienza l'esperienza nel senso quante volte si è provato a mettere le mani in pasta perché poi la fotografia è tutto questo fondamentalmente quanto hai messo le mani in pasta perché tu fotografo neofita magari hai iniziato oggi a diciamo a incominciare ad appassionarti a questa bellissima appunto passione che è la fotografia però hai deciso di farlo in una maniera dove pensi quasi solo a quello ad esempio e quindi siccome ci spendi tantissimo del tuo tempo sperimenti studi e cose varie in sei mesi riesci a raccogliere un bagaglio gigantesco di nozioni a fare tantissima esperienza sul campo in soli quei sei mesi e ti puoi ritenere già un fotografo migliore sicuramente rispetto a prima e questo ti dà l'opportunità di sapere determinate cose compreso quando intervenire e quando non intervenire sulla fotografia ma se una foto se una persona ad esempio mastica la fotografia da 15 anni ma poi ha sperimentato poco non ha quasi mai fatto corsi o cose di questo tipo non si è informato in nessun modo e bla 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 magari questa persona dice si vabbè io ho questa passione da 10-15 anni quindi non è che devi venire tu a insegnarmi le cose perché io è da prima magari che tu nascessi che io fotografo però quanto quanto ci hai sbattuto il grugno si dice a Roma su queste cose quindi è importantissimo l'esperienza e la conoscenza di un determinato argomento e vi posso assicurare che capire quando intervenire e capire quando non intervenire sono è una questione veramente importante ad esempio vedo moltissime foto sul gruppo facebook ne vedo veramente tante talvolta in alcuni giorni non riesco neanche a vederle tutte per quante davvero ne postate vedo veramente bellissime foto e a volte mi piange il cuore nel vedere alcune foto che potevano essere molto migliorate con quel piccolo qualcosa in più che però non è stato fatto e e quindi sicuramente ci siamo resi conto che è molto importante si è bloccato pesantemente male molto male ok riavvio la live su instagram eh ragazzi vediamo se si migliora la situazione allora un attimino di pazienza per tutti su facebook che sto riattivando la live ok verifica della connessione su instagram non so come posso migliorare la situazione della connessione vediamo un po' facendo così ok siamo di nuovo in diretta su instagram e si su su facebook in realtà la situazione si vede molto bene o bene comunque mi si capisce mettiamola così adesso sto riprovando a diciamo riavviare il tutto per per vedere se migliora la situazione quindi se mi scrivete qui sotto in basso se ci sono problemi oppure no su instagram mi fate un gran favore almeno così continuiamo tutti quanti la la live per quelli che sono su facebook abbiate un attimo di pazienza che sto cercando di vedere se su instagram la situazione si è risolta quindi mi vedete mi sentite su instagram ora instagram va bene ok perfetto grazie andrea allora ricominciamo nuovamente e innanzitutto comunque scusate di questi problemi tecnici io mi sono ritrovato qui in questa casetta in montagna abbiamo provato a fare alcuni test che non hanno poi tra l'altro funzionato quindi ci stiamo per il momento arrangiando in questa situazione qui ma sicuramente dalla prossima live le cose andranno molto molto meglio questa è la prima quindi concedeteci insomma un pochino il diritto tra l'altro di sbagliare perché anche in questo è giusto sbagliare come nella fotografia più si sbaglia più si impara comunque è molto importante quindi che un fotografo si informi e faccia esperienza quindi questo è il primo punto principale questo per capire quando intervenire e quando non intervenire ora il secondo punto di cui sento parlare ma anche io quando ero un neofita come tanti magari di voi avevo questo problema ovvero non capivo quali fossero le migliori condizioni possibili di editing ed ora vi spiego di che cosa sto parlando perché detta così magari non si capisce mettersi nelle migliori condizioni possibili significa avere i programmi giusti per fare un buon foto editing significa avere un flusso di lavoro corretto per fare un buon editing e significa anche fare tanto esercizio come abbiamo detto anche prima quindi queste tre sono le migliori condizioni possibili per appunto avere un foto editing fatto come si deve perché ad esempio riprendiamo l'esempio della macchina di prima del motore di prima secondo voi un meccanico dove preferisce lavorare all'interno di un'officina dove ci sono tutti gli attrezzi possibili immaginabili dove magari c'è caldo magari fuori fa freddo quindi all'interno c'è caldo quindi in una situazione confortevole oppure preferisce lavorare in mezzo alla strada al freddo al gelo alla pioggia ovviamente preferisce lavorare nella situazione più confortevole sarà molto più a suo agio e renderà sicuramente molto molto meglio quindi anche sul fotoritocco bisogna mettersi nelle migliori condizioni possibili quindi gli attrezzi giusti quali sono nel meccanico ad esempio non so il cacciavite la chiave inglese bla 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 nel fotoritocco sono sicuramente i programmi giusti o le app giuste quindi ad esempio Photoshop Snapseed Lightroom o magari tanti altri ancora che ho utilizzato anche su YouTube quando faccio vedere come edito le foto che tra l'altro voi ci mandate e dove vado ad aggiungere ad esempio del flare con lens flare o dove vado anche ad eliminare alcune imperfezioni della foto con touch retouch quindi bisogna mettersi nelle migliori condizioni possibili attraverso appunto i programmi giusti un'altra cosa importantissima è il flusso di lavoro corretto ovvero io ho sono andato a fare uno shooting fotografico ad esempio ho scattato queste 200 foto ma qual è il flusso di lavoro corretto per riuscire a prendere queste 200 foto per capire quali sono effettivamente quelle che voglio andare a editare e poi andarle a editare appunto seguendo un flusso che sia più fluido possibile con meno intoppi possibili e senza perdere tempo anche questa è una domandona cioè nel senso non è facile scoprire e capire qual è il flusso di lavoro corretto però se lo si sa se lo si scopre quindi uno si mette nelle migliori condizioni possibili per riuscire a fare un foto editing come si deve terza cosa l'esercizio come abbiamo sempre detto ma come è sempre tra l'altro nella vita più uno si esercita più uno mette le mani in pasta più uno sbaglia anche come noi questa sera d'altronde a essere poco preparati tra virgolette per questa live e più uno riesce ad avere successo successo nella fotografia per me significa innanzitutto scattare delle foto di cui si è soddisfatti perché quello è il primo presupposto principale perché se non abbiamo autostima di noi stessi in ambito fotografico è molto difficile che comunque riusciamo a far vedere i nostri lavori ad altre persone e in secondis quando abbiamo questa questa confidence in noi stessi questa autostima allora possiamo anche mostrare il nostro lavoro alle altre persone e appunto queste persone poi possono giudicarci sia in maniera positiva e sia in maniera negativa che comunque è sempre un arricchimento perché se qualcuno ci dice qualcosa che non va ad esempio noi possiamo migliorare proprio in quel momento in realtà noi possiamo migliorare e l'esercizio quindi il mettere le mani in pasta il farsi giudicare nella fotografia ha un ruolo importantissimo infine terzo punto vi ricordo ragazzi perché ho visto che alcuni di voi scrivevano sia su facebook che su instagram che le domande le facciamo successivamente perché altrimenti facciamo caos il terzo punto è che pensare di aggiungere nel fotoritocco sia meglio di togliere tante persone pensano che il fotoritocco significa aggiungere cose cioè quindi andare a saturare questo a mettere vividezza a quest'altro andare contrasto a quest'altra roba qui ma ragazzi uno dei trucchi principali che pochissimi fanno è togliere nel foto editing invece che aggiungere quindi uno dei grandi sbagli è viceversa ovvero aggiungere invece che togliere no ragazzi il fotoritocco è molto meglio se vai a farlo per togliere invece che per aggiungere quindi ad esempio abbiamo scattato una foto bellissima di una foto bellissima ad esempio di un lago non so di uno scenario fotografico paesaggistico ci sono 800.000 colori magari in questa foto no? quindi c'è il verde degli alberi c'è il blu del lago magari c'è anche si sta durante l'ora del tramonto quindi c'è l'arancione del sole poi c'è il giallo della roccia insomma ci sono 800.000 colori ora come fa uno a risaltare questa foto? andando a saturare tutti i colori quindi andare ad aggiungere cose a tutti i colori oppure andare a desaturare alcuni di questi colori per far risaltare i colori magari principali o quelli che noi scegliamo di andare a far risaltare? la risposta migliore ragazzi è il minimalismo ovvero cercare di togliere invece che aggiungere il minimalismo ragazzi nella fotografia sia nel momento di scatto sia nel momento dell'editing è qualcosa di davvero importantissimo quindi domani stasera quando vi pare a voi quando aprirete Lightroom ad esempio quando aprirete Snapseed e vorrete andare a modificare una foto non entrate con il mindset a cosa devo aggiungere a questa foto no entrate con il mindset cosa devo togliere a questa foto è quella la parte veramente importante è lì che farete veramente quello scatto in più nella vostra fotografia quando switcherete appunto il vostro pensiero quindi quando cambierete il vostro pensiero e penserete a cosa devo togliere non cosa devo aggiungere quindi ragazzi queste brevemente e anche se vedo che siamo comunque da mezz'ora in live quindi non tanto brevemente comunque questi sono le tre i tre diciamo principali problemi di ogni buon fotografo che si approccia appunto nel mondo del photo editing ovvero capire quando intervenire e quando non intervenire poi mettersi nelle migliori condizioni possibili appunto per editare le foto e pensare che aggiungere sia meglio di togliere quindi queste sono tre cose principali che appunto sono gli errori che tutti i neofiti della fotografia dovrebbero in quanto meno risolvere o pensarci su in ogni caso questa è la prima live che faremo ne seguiranno altre probabilmente sempre sulla tematica del photo editing quindi sicuramente avremo modo di parlare un pochino di più di questi aspetti qui avremo modo di parlare meglio di questi aspetti qui anche nelle successive live magari potremmo andare anche nel dettaglio di determinate tematiche quindi poi ecco vedremo step by step anche meglio sicuramente alcune cose comunque ora è il momento delle Q&A quindi delle vostre domande alle quali io appunto darò una risposta tra l'altro è il mio momento preferito perché con questo sistema io riesco ad interagire con voi ed inoltre vado a rispondere ad una domanda specifica che aiuta appunto una persona piuttosto che ecco andare a fare tanti a spiegare tante cose tante situazioni che magari in questo momento vi possono interessare più o meno quindi se avete quindi qualsiasi se avete qualsiasi tipo di domanda da da volermi fare appunto quindi questo è il momento esatto per farlo quindi apriamo alle telefonate no apriamo al Q&A quindi aspetterò un paio di minuti prima così che voi potrete formulare insomma le domande quindi siamo un bel po' visto sia su Facebook che su Instagram bene bene questo è il momento delle Q&A ragazzi quindi anche prima ho visto che c'erano alcune domande ciao Simone ho visto che c'erano alcune domande da parte vostra quindi se se le fate adesso è il momento sicuramente migliore il momento appunto nelle quali posso rispondervi altrimenti inizio con quelle che mi sono state fatte tramite mail in questi giorni che comunque mi era appuntato qua da qualche parte per chi si è collegato adesso ragazzi questo è il momento delle Q&A quindi se avete qualche domanda da fare sono qui a disposizione ciao Tony allora Anna prima fotografia sì prima fotografia prima domanda come fare per togliere un oggetto tipo auto cartello stradale in modo naturale allora non so che si chiamano edito le tue foto in quelli io sostanzialmente vado a editare le foto che voi ci mandate e vado appunto a far vedere alcune cose quindi vi consiglio di guardarvi quei video neanzitutto perché sono veramente molto utili comunque ritornando alla tua domanda un oggetto stradale molto piccolo o comunque ecco che non sia di troppo impatto può essere tolto con snapseed ma deve essere qualcosa di veramente quasi impercettibile oppure ancora meglio con un'applicazione che si chiama touch retouch e ne parliamo anche sul canale youtube in diverse occasioni la faccio vedere anche appunto sui video che vi dicevo prima quindi su edito le tue foto credo che siamo arrivati ora alla parte 5 parte 6 non mi ricordo quindi ecco il mio consiglio generale è touch retouch comunque costa credo 1 euro e 99 2 euro e 99 comunque veramente poco e fidatevi ragazzi che questa app è veramente spaventosa per come riesce a eliminare delle cose quindi eliminare appunto un cartello stradale o il lens flare oppure qualsiasi oggetto indesiderato in una facilità estrema veramente facilissima come app a 4 comandi e basta quindi si fa tutto con quei 4 comandi e si riesce ad ottenere veramente degli ottimi risultati quindi Anna ti consiglio touch retouch poi qui su facebook sposto un attimino la tecamera di instagram perché se no non leggo la domanda allora tatiana ci scrive live fantastica grazie grazie mille tatiana allora domanda da neofita quando dici di togliere e non aggiungere si può togliere a zona o comunque va su tutta la foto la correzione allora qua li metto a posto allora diciamo che in linea di massima dipende da caso a caso dipende dalla foto se abbiamo una foto di un certo tipo di fronte a noi magari possiamo voler togliere cose saturazione contrasto luci ombre chi più ne ha più ne metta in una specifica zona della foto magari e l'altra lasciarla così e questo si può fare con alcuni programmi comunque si può fare tranquillamente si può editare la foto in modo diverso editando appunto sempre la stessa foto però editando una porzione di foto in un modo e un'altra porzione di foto in un altro modo questo si può fare quindi questo è bene farlo su zona a zona ma sicuramente anche a livello macroscopico quindi anche sull'intera foto c'è bisogno di togliere invece che aggiungere partite da questo presupposto che il minimalismo nella fotografia è importantissima e come non vogliamo vedere degli oggetti indesiderati giustamente come ha detto prima Anna non vogliamo neanche vedere dei colori tra virgoletti indesiderati perché anche a livello cromatico la nostra foto deve spiccare con alcune tonalità quindi adesso ad esempio con il verde con il blu con il giallo con l'arancione ma non ci può essere un arlecchino non possono esserci troppi colori nella nostra foto cioè ci possono essere ovviamente però non risalterà questa foto non risalterà ve lo assicuro quindi è sempre molto importante questo il minimalismo Franco ha fatto adesso adesso una domanda su facebook si la live rimane registrata quindi poi potrete visionarla quando vorrete però essendo questo il momento delle Q&A ovviamente non potrete farmi nessuna domanda se non siete collegati Stefano mi chiede su facebook devo andare a togliere di nuovo il telefono quale app si può usare come neofita da neofita sicuramente l'applicazione più semplice di tutti che comunque riesce a fare sempre più o meno sempre un ottimo lavoro è Snapseed non è probabilmente super semplice come altre app che però a livello qualitativo non sono il massimo Snapseed credo che sia il giusto balance tra qualità e facilità d'utilizzo quindi quindi Snapseed io principalmente quando edito le mie foto come potete vedere sempre su youtube nei video io utilizzo e su alcune cose su alcuni particolari in determinate situazioni mettiamola così utilizzo anche Snapseed come altre app anche io preferisco Lightroom però ecco se sei proprio un neofita che è appena iniziato e bla 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 probabilmente Lightroom potrebbe risultarti più difficile rispetto a Snapseed a questo punto però puoi provare anche a fare un'altra cosa ovvero scaricale tutte e due prova a editare ad esempio le stesse identiche foto con tutte e due le app quindi Snapseed e Lightroom e vedi con quale ti ci trovi meglio tu io per facilità d'uso ti direi Snapseed per qualità ovviamente ti direi Lightroom allora arrivati indietro qua sulle domande di Instagram allora Irideville mi chiede sono neofita qual è un programma che devo scaricare allora come abbiamo detto prima che è una domanda molto simile a quella che ha fatto Stefano ti consiglio di scaricare innanzitutto Snapseed e Lightroom di provare tutte e due e di vedere con quale ti trovi meglio per riuscire appunto ad editare le tue foto io non smetterò mai di dirlo però quando io faccio i video su YouTube chiaramente li faccio anche per voi quindi quando vado a realizzare quei video su YouTube dove io vado a editare le vostre foto lì faccio vedere tantissime cose molto importanti che magari i neofiti appunto dovrebbero sapere quindi come sempre vi consiglio di andarvi a vedere comunque quei video perché sono veramente l'ABC di come uno dovrebbe un pochino intervenire sulle foto ovviamente non sono un corso sull'editing però vi possono sicuramente aiutare questa tipologia di video su YouTube quindi vi consiglio comunque di vederli allora vediamo se ci sono state altre domande su Instagram no su Facebook ciao Matteo ti avevo scritto prima ok cosa mi avevi scritto ok essendo un grande appassionato sin da quando avevo 14 anni epoca in cui l'unico mezzo a me concesso era una minolta di quelle compatte e ricercavo le nozioni in merito alla tecnica fotografica sfogliando la rivista fotografare ad oggi la mia esperienza mi porta ad avere discreti risultati personalmente sono dell'avviso che la tecnica la mano il gusto però non vedo una domanda Luciano o sono io che non l'ho letta però ecco non vedo una domanda in quello che avevi scritto comunque ecco se mi vuoi chiedere qualche altra cosa magari mandaci un'email e ti rispondiamo lì quindi ragazzi insomma ecco abbiamo risposto a qualche domanda abbiamo detto alcune cose appunto riguardanti l'editing fotografico non per forza da iphone in questo caso ma può essere fatto da qualsiasi tipo di smartphone quindi se non ci sono altre domande direi che essendo qui dove mi trovo le 20 e 42 non avendo ancora cenato non so se alcuni di voi hanno cenato oppure no io andrei andrei via quindi aspetto gli ultimi due minutini se mi volete fare qualche domanda altrimenti vado riccamente a cibarmi a deliziarmi delle prelibatezze che posso trovare qui quindi vediamo un attimo se avete qualche altra domanda è stata comunque un'esperienza abbastanza particolare questa qua di questa live perché è stato un po' un parto sotto certi punti di vista quindi ecco sono contento di essere riuscito comunque in ogni casa a farla spero che vi sia vi sia piaciuta Anna dice ma cosa ne pensi delle foto editate con aggiunta di cose non reali allora quindi immagino ritoccate ok pesantemente ma cosa ne posso pensare diciamo che se il tutto è fatto in maniera naturale quindi non forzata la situazione quindi qualcosa che possa rientrare nei canoni naturali allora ti dico mi va bene ad esempio se voglio aggiungere una via latte a una foto notturna e so esattamente come farlo va benissimo però se voglio snaturare completamente la situazione quindi ad esempio non so se voglio se c'è una foto di un fiume nella parte bassa e voglio poi il cielo con Marte sopra ad esempio un po' mistona come situazione quindi poi ovviamente dipende da caso a caso dipende anche da come è stato fatto l'etiting e bla 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 però in linea di massima sono dell'idea che andare a modificare pesantemente una foto quindi andarla a ritoccare pesantemente ci può stare se ovviamente uno sa esattamente come fare però rimarrei sempre io personalmente nell'ambito delle cose naturali quindi non andrei a fare cose che non esistono fondamentalmente in natura allora mi sono arrivati un po' di domande tutte all'ultimo allora Stefano mi dice dove trovi i tuoi video youtube sul canale youtube di iCamera questi video di cui parlavo sono i video edito le tue foto dove quindi voi mi potete mandare le vostre foto sulla casella email editole tue foto chiacciolagmail.com io le vado a editare ovviamente con il mio gusto personale però le foto sono vostre le vado a editare io e vi faccio vedere cosa faccio quindi sicuramente sono dei video molto importanti per l'apprendimento del fotoritocco poi Mario ci scrive come posso giudicare se la mia foto valga la pena di essere pubblicata domandasi interessante Mario allora innanzitutto direi che qualsiasi foto merita di essere pubblicata cioè chi sono io o chi è qualsiasi persona per venirti a dire che la tua foto non merita di essere pubblicata partirei innanzitutto da questo presupposto però poi capisco che ci sono che intervengono un pochino delle situazioni di autostima quindi magari una persona non ha un'autostima fortissima di sé o della sua fotografia e quindi io direi di buttarsi come sempre uno si butta butta e sperimenta magari anche con delle coscienti delusioni ma d'altronde la vita cioè siamo qui anche per questo per buttarci per fare esperienze quindi la tua foto a mio parere vale sempre la pena di essere pubblicata sempre 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 in più se poi vuoi migliorare oppure se in più vuoi diciamo esternare il fatto che non sei un esperto puoi benissimo dire ok ho postato la mia foto ragazzi sono un neofita che ne so siate clementi di me oppure mi date qualche suggerimento su questo questo e quest'altro anzi proprio nel momento in cui tu pubblichi le tue foto riesci ad avere quel miglioramento stesso poi della tua fotografia perché ti confronti con altre persone quindi quindi ecco io direi che bisogna sempre pubblicare le proprie foto e poi Luciano dice se una foto nasce già bella il ritocco deve essere essenziale e non so se intendevi il ritocco non deve essere essenziale comunque per me sì cioè una foto già nasce bella quindi se una foto già nasce bella quindi che tu hai fatto bene il tuo 50% devi fare anche l'altro 50% fatto bene e quindi sicuramente sì il fotoritocco è essenziale anche se già una foto nasce bella Susanna sono d'accordo con te tra l'altro pubblicare senza avere un riscontro che aiuta a migliorare non serve ma come sai benissimo anche tu nel nostro gruppo facebook il cellulare mi ha detto che avevo solo il 10% comunque nel nostro gruppo facebook abbiamo messo due moderatori che possono che possono ecco migliorare farti migliorare appunto giudicando la tua foto ci sono anch'io poi per chi ha comprato il corso di iPhone Photo Academy c'è anche il supporto incluso quindi come sapete compresa tu mi puoi scrivere mi puoi chiedere delle cose così facendo che la tua fotografia appunto possa migliorare quindi nel nostro gruppo postate ragazzi le vostre foto anche se avete iniziato ieri a masticare di fotografia perché è veramente molto importante che le vostre foto siano pubblicate per avere un riscontro ma anche per la soddisfazione di dire ok ho avuto non so il coraggio di aver postato questa foto o guardate che bella foto che ho fatto ad esempio o semplicemente per far vedere magari un posto bello o un qualcosa che vi ha particolarmente colpito la fotografia è questo ragazzi anche con divisione quindi ragazzi io adesso vado perché il pancino un pochino chiama l'ultima domanda rispondo di Toti può darmi qualche consiglio per settare la camera di iPhone 13 Pro si può aprire un mondo su questa domanda perché dipende da tantissimi fattori per il quale magari la tua foto non poteva soddisfarti come colori se sei sul gruppo facebook quello che ti posso consigliare di fare è postare le tue foto e magari dire che cosa non ti piace magari ti possiamo aiutare in quel caso però vedendo un riscontro vedendo una foto così è un po' difficile sapere che cosa tu puoi fare per migliorare quella foto anche perché a livello di settings noi lo spieghiamo sui nostri articoli ma anche sui nostri video youtube che cosa va fatto oltre che ovviamente sul nostro corso quindi è meglio avere una foto per capire meglio la situazione poi Susanna dice ho postato molte foto ottenendo solo pochi like e nessun commento allora per quanto riguarda i like uno non è che deve per forza pretendere di riceverne chissà quanti giustamente uno la posta e poi dopo vede per i commenti di questo mi dispiaccio nel mio caso in quel periodo specialmente mi ricordo dove i postavi tu io ho veramente pieno di cose da fare infatti adesso abbiamo messo i due moderatori proprio per questo per cercare di stare più appresso al gruppo quindi se vuoi adesso continuare a postare le foto sicuramente riceverai molto più riscontro rispetto a prima mi dispiace che tu magari non hai avuto un riscontro come sempre siamo umani non possiamo essere perfetti anche io il mio il mio tempo non è infinito no e abbiamo messo i due moderatori proprio per accogliere richieste di questo tipo quindi di gente che sta sul gruppo che appunto può darti delle risposte quindi in questo sia Mauro sia sì Mauro che Cristina ti possono essere d'aiuto su questo sicuramente che sono i nostri due nuovi i due nuovi moderatori comunque non Mauro ma Mario scusate allora sì la diretta si viene salvata quindi la potrete rivedere quando vorrete comunque in futuro ci saranno anche altre live raw o jpeg dipende dalla situazione su iphone in linea di massima ti dico va benissimo jpeg però ecco se poi vuoi fare qualcosa di particolare a livello di editing e bla 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 ovviamente ti consiglio raw però qua poi anche si apre uno scenario ampissimo e quindi niente ragazzi adesso vado e grazie a tutti per aver partecipato a questa live grazie a tutti per le numerose domande che mi sono arrivate mi scuso per i problemi tecnici che ci sono stati sicuramente anche questo per noi fa esperienza e lo prenderemo in considerazione per il futuro per cercare di fare sempre meglio e quindi nulla ragazzi buona cena a tutti quanti per coloro che non hanno già cenato e buonanotte per coloro che stanno andando a dormire tra poco ci vediamo come sempre sui video su youtube sui nostri articoli sui corsi per chi li acquista sui nostri corsi gratuiti per chi è entrato da poco nulla ragazzi un grande abbraccione grazie mille a tutti per aver partecipato e buonanotte per dopo ciao ciao grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti